Musica Un successo di pubblico, di generi musicali che si incontrano e scontrano. La miglior world music internazionale ha calcato tra il 27 e il 29 dicembre il palco dell'Ariano Folk Festival Winter Edition. Chiusura affidata a Maglio Calafro Campano, uno stile unico e inconfondibile che fa eco alle sue origini partenopee. È stata poi la volta dell'Itacca Band direttamente dalla Spagna con i loro ritmi latini e le loro potenti chitarre in marchio di fabbrica. Il frontman dell'Itacca Band Albert Garcia ha ringraziato il pubblico del folk. Da prima, ha detto il cantante, un po' scettico ma poi, grazie alla musica e all'energia trasmessa, l'entusiasmo è salito alle stelle. Non è stato un po' scettico, non è stato un po' di rinforzamento, ma non è stato un po' di rinforzamento. Non è stato un po' di rinforzamento, ma non è stato un po' di rinforzamento. Non è stato un po' di rinforzamento, ma non è stato un po' di rinforzamento. Ma alla AFF non è mancato un fuori programma. I True Skills, gruppo rap made in Ariano Irpino, con un utrito fans club al seguito, per la prima volta ha calcato il palco del folk, esibendosi davanti a centinaia di persone. E' stata veramente una bella esperienza, un onore suonare qui. Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato e che sono divertiti con noi in organizzazione per questa bella opportunità e rimanete connessi. Favola è l'album che è appena uscito. È uscito su Spotify, su tutte le piattaforme digitali, sta facendo bei numeri e speriamo bene. Io sono Widout e sono il frontman del True Skills. E niente, ci stiamo divertendo. È una bella esperienza tutto quello che stiamo facendo. Stiamo girando tanto, pure in zona, gli altri paesini qua intorno. Ci stiamo divertendo tutte le serate, la gente risponde bene. Siamo solamente tre ragazzi di Ariano Irpino che stanno facendo quello che gli piace, in compagnia appunto e per fortuna piace anche la gente, questa cosa è soddisfacente.